Sì, ma lei non è che dipingeva, immortalava nei suoi quadri solo quello che a lei piaceva, anche tutte le altre realtà. Se ci fosse stata oggi avrebbe sicuramente, non so, era stato curioso di capire come avrebbe messo sulle sue tele le immagini del petrolio, le immagini dell'eolico, insomma di queste immagini di grande impatto ambientale. Non lo so, però lei sono sicuro che l'avrebbe fatto.